No, sì, poi faccio anche tante altre cose nella mia vita dove si sfogo e ho un atteggiamento passionale o appassionato nei confronti di ciò che faccio e non so se questo dipende dal mio segno giudicale o da Ariete o chissà quale caratteristica interna mia, però generalmente sono mosso da un impeto che però non si consuma subito, sono anche abbastanza persistente su certe cose, su altre invece sono molto appassionato all'inizio e poi dopo mi affievolisco, mi stanco, però certe cose invece continuano, è un fuoco che continua a alimentarsi dall'interno e quasi inesauribile, forse il mio approccio al vino, così, probabilmente mi accompagnerà ancora per il resto della mia vita.